Musica Bollo auto, modifiche alla legge. Le novità approvate dal Consiglio regionale comporteranno un maggior gettito di 9 milioni di euro. Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con Monitor Consiglio. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato con i voti della maggioranza le modifiche alla legge sulla tassa automobilistica regionale. Le novità che comporteranno un maggior gettito di 9 milioni nelle casse regionali sono state illustrate dal Presidente della Commissione competente, Giacomo Bugliani. Ascoltiamolo. Sono tre le novità che vengono introdotte nella disciplina del bollo auto. La prima, la più significativa in termini numerici, riguarda il noleggio a lungo termine senza conducente. Nel 2013 erano state introdotte una serie di agevolazioni, di riduzioni importanti per i proprietari dei veicoli a noleggio senza conducente. Queste agevolazioni vengono quindi eliminate con la legge che è stata oggi licenziata dal Consiglio regionale. Anche perché nel frattempo si era verificato un importante cambiamento, ovvero quello per il quale l'imposta non deve più essere corrisposta dal proprietario del veicolo, ma direttamente dall'utilizzatore. Pertanto si è stabilito che tutte le volte che vi sia un noleggio a lungo termine senza conducente e che l'utilizzatore abbia la residenza o la sede nel territorio della Toscana, venga corrisposto, analogamente a tutti gli altri proprietari di veicoli, il bollo direttamente alla Regione Toscana. Dall'altra parte però c'è anche un altro importante cambiamento che riguarda le automediche. Non soltanto quindi le auto adibite ad ambulanza godono dell'esenzione dal bollo, ma grazie a questa legge l'estensione viene fatta anche alle automediche. E da ultimo si stabilisce l'effetto automatico della sospensione del pagamento del bollo al momento della trascrizione e della cessione alle imprese che sono deputate alla rivendita dei veicoli. Una volta era necessario avviare un iter amministrativo per poter godere della sospensione del pagamento della tassa, con i diritti che avrebbero dovuto essere corrisposti per poter affruire di questa sospensione, oggi al momento della trascrizione e della cessione automaticamente si produce l'effetto sospensivo. Quindi da una parte abbiamo 9 milioni e 200 mila euro di gettito in più sul bollo che vengono dall'applicazione del bollo anche alle auto che sono a noleggio senza conducente, dall'altra però ci sono minori entrate, ad esempio per l'estensione alle automediche o ancora per questo effetto sospensivo immediato per le imprese che sono deputate alla rivendita dei veicoli, di 200 mila euro, con un saldo quindi di 9 milioni di euro in più derivanti dal gettito del bollo auto. Oltre alla legge relativa al bollo, il Consiglio ha approvato anche alcuni emendamenti proposti dal Presidente Gianni. Sentiamo proprio il Governatore della Toscana su questa nuova legge. Bollo auto per tutti i cittadini rimarrà per l'anno prossimo esattamente quello che è ora. La modifica va a incrementare invece il bollo auto degli utilizzatori dei mezzi a noleggio. Quindi una nicchia, una categoria molto precisa. Perché? Perché è cambiata la legge a livello nazionale invece che le imprese proprietarie dei mezzi che vengono messi a noleggio la pagheranno gli utilizzatori e conseguentemente se le imprese che pagavano bolli per migliaia di persone esisteva un'agevolazione che poi le teneva in Toscana, altrimenti le agevolazioni magari le trovavano in altre regioni e quindi con un vantaggio da parte della regione, nel momento in cui cambia la legge nazionale a pagare il bollo sono gli utilizzatori, allora è giusto che paghino quanto pagano gli altri proprietari, ovvero tutti i cittadini che hanno la loro auto. Quindi è stata semplicemente un'operazione di perequazione fiscale. Sempre sul tema della nuova legge sul bollo automobilistico, da aggiungere che il gruppo di Fratelli d'Italia aveva richiesto la sospensiva del provvedimento che è stata negata e che sono stati approvati cinque ordini del giorno collegati alla nuova legge. Sentiamo quindi i pareri, i commenti delle forze politiche in Consiglio regionale. Dal primo di gennaio del 2023 professionisti, partite IVA, imprenditori, cioè tutti coloro che utilizzano lo strumento del noleggio a lungo termine per la propria auto dovranno pagare il bollo auto. Questo è da una parte l'ennesima vessazione per categorie che negli ultimi anni hanno già pagato abbastanza alla situazione di crisi nazionale e internazionale. Dall'altra parte, questo provvedimento porterà 9 milioni di euro in più nelle casse della sanità toscana perché così ha deciso la maggioranza. Noi abbiamo chiesto una cosa al governatore Gianni. Non ho ancora avuto risposta, quindi la continuiamo a chiedere. Come mai questi 9 milioni per la sanità toscana servono urgentemente nel 2023? Cosa è successo nel 2022 di straordinario? Perché la legge che permetteva alle regioni di incassare questi 9 milioni è la legge di stabilità del governo del 2019. Quindi la regione toscana avrebbe potuto incassare questi 9 milioni nel 2020, nel 2021 e nel 2022. La regione toscana ha rinunciato a incassare 27 milioni di euro in tre anni per incassarne 9 il prossimo anno. Quindi o quest'anno è successo un disastro oppure Gianni ha bruciato 27 milioni di euro per la sanità toscana. La giunta regionale evidentemente ha bisogno di andare a cercare delle risorse finanziarie perché è l'unico modo con cui si giustifica la fretta e il modo con cui in questo momento sono andati a mettere le mani nelle tasche di partite IVA, piccolissime imprese fatte anche da una sola persona che sono quelli del noleggio auto a lungo termine ad esempio per ricavare 9 milioni di euro che mi viene da pensare sono quasi la stessa cifra che un anno fa era stata data a Toscana Aeroporti come ristoro e salvo poi sapere che erano stati divisi gli utili da quel punto di vista. Un'altra cosa molto curiosa è che vengono chiesti questi 9 milioni in più dalle casse che vengono comunque sono mani in tasca che vengono messe a una categoria che lavora e che produce ma non si sa come vengono finalizzati e soprattutto viene da pensare se la regione non abbia trovato altro su cui risparmiare o su cui riuscire a incassare maggiormente e a questo punto viene da fare due riflessioni i rumors riguardo il buco di bilancio che ci aspetterebbe a fine anno per la sanità continua a essere sempre più forte e consistente e il dubbio è che siano diciamo un bicchiere di acqua in mare per cercare di andare a colmare questo buco. L'altro pensiero che ci viene da fare riguardo a questa iniziativa, a questa presa di posizione diciamo della regione toscana riguarda il fatto che le cifre che vengono cercate non sono state vincolate in nessun modo quindi la regione oggi ci dice che ha trovato dove esigere 9 milioni di euro in più dai toscani da una categoria di toscani ma non ci dice come le vuole spendere e il sospetto è che in realtà ci sia dietro un problema più grosso di quello che in questo momento appare Ma assolutamente è un tema di attualità finalmente la giunta è riuscita a chiarire quelle che erano le evidenti intenzioni ovvero quella di cercare di reperire delle risorse che andassero a colmare una lacuna della nostra sanità che pare oggi essere quasi un treno alla soglia del deragliamento quindi c'è una situazione sicuramente critica che oggi ha richiesto questo intervento straordinario dall'altro però sono molto soddisfatta perché di fronte a quella che sembrava essere quasi una destinazione come dire definita quasi inaspettatamente è stato approvato è passato diciamo al voto dell'aula un nostro ordine del giorno che su quei 9 milioni finalmente dava cercava almeno di dare una risposta alle imprese ovvero prevedendo che queste risorse andassero ad essere destinate per quanto riguarda diciamo interventi strutturali per far fronte a carobollette o meglio all'efficientamento energetico degli edifici produttivi a noi sembra che oggi siamo in una situazione in cui il sostegno alle attività produttive quindi di conseguenza l'occupazione debba essere una priorità abbiamo come dire scansato che queste risorse fossero destinate poi integralmente invece alla sanità che già copre l'80% del bilancio regionale e noi non possiamo permetterci di mettere sulla spesa corrente altre risorse senza programmazione o almeno non solo senza programmazione ma anche senza vederci chiaro su quello che è il futuro del sistema sanitario Ma Eteravia ha votato contro questa legge perché riteniamo inopportuna un aumento delle tasse che non venga poi correlato a un'attribuzione di queste risorse che sono 9 milioni di euro a favore poi delle imprese, dei commercianti, degli artigiani, di colori che più di altri stanno soffrendo e quindi noi avevamo detto fin della settimana scorso che eravamo disponibili ad aumentare questa tassazione solamente a una condizione quella condizione che queste risorse siccome verranno pagate essenzialmente da libri professionisti, da artigiani, da imprese che molte volte hanno auto a noleggio potessero poi essere restituite nei confronti delle imprese dei commercianti, degli artigiani che più di altri stanno soffrendo rispetto al caro bollette, al caro energia riteniamo che questo sia una cosa ingiusta, non servono queste risorse per pagare il buco della sanità se questo c'è deve essere spiegato se esiste o se non esiste e quindi su questo ci chiediamo chiarezza ovviamente la maggioranza di governo è regione toscana e non siamo stati disponibili a cedere sui nostri valori sui nostri principi, insomma si può perdere una battaglia in aula ma non si può perdere la dignità quindi per noi questa imposizione fiscale non esiste perché altrimenti queste risorse andavano destinate qualora si voleva aumentare le tasse soltanto a favore delle imprese Siccome la Giunta ci ha proposto un provvedimento che toglie uno sgravio che fino ad oggi esisteva per quanto riguarda il pagamento del bollo per i noleggi a lunga scadenza questo avviene in virtù della modifica della legge nazionale che fa pagare il bollo non più ai possessori delle auto ma agli utilizzatori delle auto noi abbiamo pensato di allegare un ordine del giorno al provvedimento che ci ha trovato favorevoli per quanto riguarda l'eventuale utilizzo nell'ambito del prossimo bilancio di queste risorse che verranno recuperate per noi è importante tenere ben presente, avere priorità per quanto riguarda l'agenda sanitaria e per quanto riguarda l'agenda sociale della regione le famiglie stanno soffrendo, le persone sono in difficoltà la sanità toscana è la più pubblica che abbiamo in questo paese siccome presumiamo che il governo non allocherà maggiori risorse tra l'altro per quanto riguarda la sanità almeno questo dalle prime dichiarazioni che sono state fatte noi pensiamo che mettere risorse per quanto riguarda il rafforzamento della sanità territoriale dei servizi rivolte alle persone più fragili per quanto riguarda il rafforzamento dell'agenda sociale sia dare riscontro a quelle che sono le maggiori esigenze e le maggiori emergenze che le fasce più deboli della popolazione stanno attraversando La Lega ha votato contro la proposta di legge del PD non tanto perché eravamo contro a togliere il 10% di sconto per chi ha dei veicoli a noleggio quanto piuttosto critichiamo e fortemente il metodo dubitiamo seriamente del carattere di urgenza di questo Consiglio perché tutti sanno che entro il 10 di novembre eventuali modifiche sul bollo auto devono essere adottate dalle regioni quindi c'era tutto il tempo per intervenire e questo non è stato fatto siamo arrivati in fretta e furia ad approvare un provvedimento che non è chiaro neppure per quanto riguarda le fattispecie di riferimento noi abbiamo presentato un emendamento per dire se si tratta soltanto dei veicoli a noleggio a lungo termine così come fa riferimento la normativa nazionale o anche a quelli a breve c'è molta confusione, c'è anche divisione all'interno della maggioranza abbiamo visto Italia Viva che non è stata a votare questo provvedimento e consideriamo invece che la Lega è riuscita a far approvare un proprio ordine del giorno per il sostegno alle famiglie con minore a carico e con gravi disabilità questa è la Lega del fare noi cerchiamo di dare risposte cerchiamo di analizzare compiutamente i provvedimenti che vengono da una giunta invece che è sempre più in stato di confusione Cambiamo argomento il presidente della regione Gianni ha annunciato un suo prossimo incontro con il ministro Roberto Calderoli l'argomento dell'incontro sarà l'autonomia differenziata Con Calderoli ci vedremo nei prossimi giorni il tema comunque ce lo siamo già preannunciati da un punto di vista telefonico se sull'autonomia differenziata la Toscana è d'accordo noi siamo d'accordo in un'autonomia differenziata che più che andare a vedere gli aspetti economici di tornaconto delle regioni deve affrontare la possibilità di gestire meglio alcuni settori che hanno una specificità regione per regione beni culturali dove noi abbiamo il 20% e beni culturali in Italia anzi qualcosa di più è giusto che prevedano un coinvolgimento della regione che poi va a utilità perché noi non vogliamo lasciare chiuso nessun museo vogliamo fare un'opera di promozione anche del museo del più piccolo paese quindi è un'utilità per tutti la geotermia che è solo in Toscana è giusto che sia la regione a seguire naturalmente in concertazione con il ministero ma quello che è un settore così vitale su cui attraverso una gestione diretta noi potremmo incentivare ancora di più la creazione di fonti rinnovabili di energia in questo caso una fonte che già in Toscana copre il 34% dell'energia come la geotermia fatto questi due esempi ne potrei fare tanti altri l'autonomia differenziata intesa come lettura migliore di come può essere disciplinata una materia sul territorio laddove ha delle specificità rispetto alle altre regioni è per noi motivo di vero interesse e quindi ho tutta la disponibilità che esprimo al ministro Calderoli per poter ragionare dell'intesa fra il governo e la Toscana è tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio grazie per l'attenzione e buona sera grazie per la visione